Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzuoli, sono appena usciti da settimana 5 Abbiamo già fatto alcune sfide, abbiamo già fatto la fase 1 della sfida, diciamo una su tre fasi, quelle balla in cima a un qualcosa Abbiamo fatto balla in cima a una torre idrica, adesso andiamo a fare balla in cima a una torre ranger Come alzate ragazzuoli, vi voglio lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram emiliano.mari Eccoci qua ragazzuoli in game, allora dove si trova la torre dei ranger? Sta al rifugio ritirato ed è quella torre alta di rifugio ritirato che potete tranquillamente trovare qua Quindi ci butteremo lì, siamo un po' distanti effettivamente dalla linea del bus, faremo qualche metro in più Eccoci qua ragazzuoli, stiamo arrivando, è stata lunga, ho messo un po' male il point però ho pingato leggermente male Ma non ci interessa perché noi siamo arrivati qua, perfetto A terra tra l'altro devo fare anche la missione a terra al rifugio ritirato Ci mettiamo così e bam, è questa, eccola qua Un bello screenshot e per questo video ragazzuoli è tutto Vi ringrazio tantissimo per la visione, vi lasciate un mi piace se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale se avete fatto, di condividere il video e di farmi scena a persone Mi raccomando, passate tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram Tra pochissimo un prossimo video con l'ultima fase Ciao a tutti ragazzi